Ritorna allo storico ristorante Bayonne sul porto di Gabicce Mare. Vieni a gustare le nostre prelibatezze di pesce e in particolare le nostre crudità di pesce fresco. Prenota il tuo tavolo con anticipo per le festività pasquali. Ristorante Bayonne. Buon cibo a due passi dal mare. Sempre the best, simply the best, simply the best.